Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui in questo rapido flash con cui voglio informarvi per chi ancora non lo sapesse che è disponibile online, praticamente ovunque, la versione prova da DD Next che tantissimi playtester di tutto il mondo hanno provato e hanno dato il loro contributo per fare questa quinta edizione che si chiamerà DD Next. Per che faccio questo video? Intanto per informarvi tutti che è disponibile e che la potete guardare dappertutto, diciamo DD Next la trovate in download. In più, voglio sapere la vostra opinione, anche se è solamente ancora in inglese, è solamente diciamo una base, non ha tutti i particolari, ci stiamo avvicinando a ciò che è ormai questo DD Next, quindi voglio sapere da voi nei commenti cosa ne pensate, cosa ne avete provato, cosa non vi piace, insomma apriamo un dibattito qui nei commenti, voglio partecipazione e so che voglio una prova forte ma ci stiamo avvicinando a, diciamo, un momento per il Dungeons & Dragons ma anche per il gioco di ruolo di ricrescita, perché con l'uscita di un nuovo gioco di ruolo famoso nella sua nuova edizione ci saranno sicuramente grandi aspettative e si parlerà di questa DD Next, quindi voglio che si condivida, si faccia sapere il più possibile in modo che si risollevi il Dungeons & Dragons, si faccia riscoprire il piacere del gioco di ruolo anche a quelle persone che non lo conoscono. Aprirò a breve forse una nuova rubrica con cui parlerò del gioco di ruolo, diciamo, terra-terra, che cos'è, perché mi dando conto che tantissime persone che mi seguono non hanno neanche idea di cosa sia il Dungeons & Dragons, sono incuriosite, quindi manca, diciamo, la parte chiave, cioè definire cos'è un gioco di ruolo e tutte le sue varie forme. Quindi non ho altro da aggiungere, condividete, commentate, il mi piace come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!